Hai ereditato la casa di famiglia e il geometra ti ha detto che non è conforme? La banca ti ha detto che non ti dà il mutuo perché la casa che vuoi comprare non è a norma? Ma cosa significa? Significa che il tecnico che ha preso le misure della casa ha verificato che ci sono differenze tra quanto è stato realizzato a quanto è stato disegnato e depositato in comune e al catasto. In questi casi, se possibile, bisogna incaricare il tecnico che prepari e consegni in comune una pratica di sanatoria e la nuova planimetria al catasto. Ovviamente questo ha un costo e lo so che stai pensando? Ci penserò quando troverò un acquirente. Questo è un grande errore e può essere decisivo per la non vendita di casa tua e ti spiego il perché. I tempi tecnici per la preparazione e il rilascio da parte del comune della tua pratica sono abbastanza lunghi e non muovendoti per tempo rischi di perdere la vendita di casa tua perché quando troverai il compratore non sarai in grado di fornirgli i documenti necessari per ottenere il mutuo o ancora peggio per andare dal notaio. Non avrai tempistiche certe con rischio non solo di perdere la vendita di casa tua ma anche di dover pagare delle penali. Ora, sei così convinto di non voler incaricare un tecnico per incominciare queste verifiche? Vuoi perdere la vendita perché sei stato pigro e poco previdente prima? Oppure inizierai subito e anticiperai il problema prima ancora che questo si verifichi? Ci vediamo nel prossimo video!